Il commissario alla sanità Massimo Scura rimane sulla stessa linea nel tanto chiacchierato decreto numero 9 anche dopo le manifestazioni in difesa della sanità e del diritto alla salute con tanto di piazze colmei e il convolgimento dei sindaci e amministratori della piana di Gioietauro e non solo il sindaco di Polistena Michele Tripodi tra i promotori della lotta antidecreto non ci sta ed esterna ancora una volta tutta la sua delusione per la chiusura e l'indisponibilità nel trattare l'argomento sia dal commissario che dal governo che lo ha nominato il vizio è sempre lo stesso sbotta Tripodi quello di farsi spazio dividendo i sindaci e il territorio e il commissario scura che dialoga solo all'apparenza non ha imparato nulla dalla lezione partita dalla piazza di Polistena e dalle altre manifestazioni del territorio che hanno registrato l'unità di intenti di sindaci e di istituzioni locali ma anche la grande partecipazione di cittadini contemporaneamente va segnalata l'inadeguatezza di scura nella lettura della realtà e delle necessità dei nostri ospedali sempre più mesi in ginocchio dalle carenze quotidiane dai vuoti di organico dalla mancanza di strumenti diagnostici efficienti ci chiediamo in questo quadro desolante di disservizi incapacità gestionale forse pure strafottenza sbotta ancora il sindaco di Polistena come si possa riempire di medici e personale il nuovo ospedale di Palmila la cui promessa della costruzione è diventata sempre più un alibi per distruggere i servizi esistenzi sul territorio quando per ammissione dello stesso scura l'aspio fatica già oggi a compiere trasferimenti di una sola unità di personale da un presidio ospedaliero all'altro nella provincia di Reggio Calabria figuriamoci pertanto conclude Michele Tripodi continueremo a contrastare modi e metodi di una gestione commissariale che non può continuare senza che il governo nazionale e la regione Calabria ne assumano al pari responsabilità e coscienza per il primo cittadino di Polistena la lotta intrapresa in difesa della sanità pubblica della piana non si ferma per niente anzi Tripodi ribatte ancora sul potenziamento delle strutture esistenti a partire dall'ospedale di Polistena attraverso lo scorrimento delle graduatorie per riempire gli organici del servizio radiologico di anestesia e rinemazione di psichiatria di ortopedia nonché lo sblocco dei fondi pare a 9,5 milioni di euro per la ristrutturazione del Santa Maria degli Ungheresi confermati per il 2016 nel piano delle opere pubbliche approvato dall'asp con delibera 553 dello scorso 3 novembre intanto il prossimo 23 novembre finalmente si aprirà il cantiere per la realizzazione della pista di eli soccorso proprio dinanzi al pronto soccorso del nosocomio cittadino l'amministrazione comunale malgrado i proclami di ridimensionamento di un ospedale che accoglie una vasta utenza ha investito per la realizzazione dell'importante opera 530 mila euro